Salve a tutti ragazzi e benvenuti da UMBX Cuore Azzurro. In questo nuovo secondo video di oggi, dimostreremo a tutti come eliminare la fastidiosissima password di Windows 10. In sostanza potrete accendere il vostro computer senza più digitare la password. Per far tutto questo non dovete altro che seguire i miei comandi. Ora, andate qui in basso nella barra di ricerca e digitate queste lettere che io vi sto per dire. NET, quindi N come Napoli, E di Empoli, T di Torino, P L, quindi P di Palermo, L di Livorno, WIZ, quindi W, I di Imola, Z di Zara. A questo punto si aprirà un'estensione di comando. Non facciamo altro che cliccarci sopra. Si aprirà una seconda schermata che io in questo momento sposterò per far sì che la possiate vedere tutti. vedete qua che c'è un segno di spunto. Dobbiamo eliminarlo. A questo punto, una volta eliminato il segno di spunto, clicchiamo su Applica. Adesso si aprirà un sottomenu. Dobbiamo puntare il mouse sulla stringa di comando Password e digitare la password che noi usavamo per accendere il nostro computer. A questo punto andiamo nella seconda stringa di comando Conferma Password e ridigitiamo la stessa password che abbiamo digitato nella stringa di comando Password. Una volta digitato, non facciamo altro che cliccare su OK. A questo punto possiamo verificare che il segno di spunto è sparito. Una volta verificato che il segno di spunto è sparito, non facciamo altro che cliccare qua in basso su OK. Ecco ragazzi, da questo momento in poi, ogni volta che accenderete il vostro computer, non dovrete più digitare la password. In sostanza, il computer si accenderà molto più velocemente senza il fastidio di digitare la password. Se questo video vi è piaciuto, cliccate più like possibili e io a me non mi resta che ringraziarvi. Un saluto e un abbraccio dal vostro OMBX cuore al giorno. Ciao!